Allora, questa lezione invece sarà una simulazione dell'esercizio che dovrete svolgere, quindi faremo questa simulazione insieme in modo che non avrete grosse difficoltà. Facciamo questa ipotesi, sono due interventi di pianificazione territoriale. Uno riguarda la realizzazione di un edificio condominiale e l'altro riguarda la realizzazione degli uffici. La superficie dell'area da recuperare è di circa 2500 metri quadri. Il volume però di tutti gli edifici da abbattere per poi fare questo recupero edilizia sono 2000 metri cubi, però poi è consentito ovviamente un incremento di 2500 metri cubi, per un totale di 4500 metri cubi. Pertanto, se consideriamo un'altezza media di 3 metri sia per gli appartamenti che per gli uffici, abbiamo una superficie edificabile di 1500 metri quadri. Ovviamente parliamo di superficie utile lurda. Quali sono le due ipotesi? L'edificio condominiale realizziamo 1450 metri quadri, quindi rimaniamo ampiamente dentro i 1500, per una superficie commerciale di 1600 metri quadri. Nella superficie commerciale ovviamente entrano i balconi, i parcheggi, eccetera, quindi è quella che effettivamente si vende. Il prezzo di vendita degli appartamenti è 2000 euro al metro quadro. Per costruirli abbiamo un costo di edificazione di 1200 euro al metro quadro. Il numero dei parcheggi che realizziamo è 20. Gli uffici realizziamo una superficie utile lurda edificabile di 1500 metri quadri, in termini commerciali sono 1650. Il prezzo è un po' più basso, quindi 1800 euro al metro quadro. Il costo di edificazione, anche se è leggermente più basso, 1100 euro al metro quadro, realizziamo però un maggior numero di parcheggi. Allora, il costo dei parcheggi è 2500 euro cada uno, contributo di costruzione 20%, di oneri finanziari 5%, questi sono i parametri che avrete anche nell'esercizio. Il profitto di impresa, cioè l'invenzione si aspetta di recuperare un 20%, il saggio di interesse è il 4%, quello di attualizzazione, ovvero quello che ci permette di portare tutti i ricavi e i costi al momento 0 è il 2%, costo di demolizione 25 euro al metro cubo. Realizziamo 500 metri quadri di attrezzatura con un costo di circa 30 euro al metro quadro. Il costo di demolizione 25 euro al metro cubo. Allora, l'esercizio è questo, dobbiamo sviluppare una breve relazione secondo lo schema, quindi gli interventi di recupero dell'area, metodologia di giudizio della convenienza economica, il concetto di valore di trasformazione, il concetto di giudizio di convenienza, le ipotesi di trasformazione, la realizzazione dell'edificio condominiale, nel caso nostro non ci sono le villette, quindi questo è un refuso, quindi facciamo edificio o uffici, i ricavi di vendita, i costi totali di edificazione, il van e gli altri parametri, le percentuali di van sui ricavi e il rapporto van-superficie utile lorda. E le conclusioni. Allora, cominciamo a sviluppare la relazione. Gli interventi per il recupero dell'area, dobbiamo dire che in quest'area cosa facciamo? Quindi, brevemente, trattasi di un'area di circa 2500 metri quadri da recuperare attraverso l'area iniziazione di un intervento residenziale mediante il recupero dei fabbricati esistenti del volume di metri cubi 2000, oltre un incremento di 2500 metri cubi per un volume massimo di 4500 metri cubi. Come abbiamo detto prima, la superficie utile lorda edificabile è 1500 metri quadri. Qual è la metodologia? La metodologia è basata sul valore di trasformazione, come abbiamo visto anche nelle dispense. E quindi, attraverso questo valore di trasformazione, si verifica se conviene acquistare l'immobile e trasformarlo. Qual è il concetto di valore di trasformazione? Sempre tratto dalle dispense, si ottiene per differenza tra il valore del bene dopo la trasformazione, detratto tutti i costi di trasformazione. Ovviamente, nei costi di trasformazione ci sono sia i costi di edificazione che il profitto d'impresa, nonché il contributo di costruzione che noi dobbiamo dare come oneri concessori. Come si esprime il giudizio della convenienza? Il giudizio di convenienza si esprime in maniera molto semplice, ovvero, una volta stabilito quello che è il profitto dell'imprenditore, nell'esercizio comunque vi viene dato, se il valore del bene da trasformare, meno tutti i costi, compreso il profitto del venditore, è maggiore del prezzo del bene prima della trasformazione, la convenienza economica c'è nella trasformazione. Nel caso nostro però noi dobbiamo verificare le due ipotesi, ovvero se conviene fare l'edificio condominiale o gli uffici, dato per scontato vi conviene comunque realizzare la trasformazione. Terzo punto sono i ricavi di vendita, sono sempre presi dalla traccia, il prezzo di vendita è 2.000 euro al metro quadro, la superficie commerciale è 1.600 metri quadri, negli uffici invece vendiamo a 1.800 però realizziamo una maggiore superficie. I ricavi, questi parametri li riprendiamo poi dalla tabella Excel, cioè qual è il totale dei ricavi e quindi vediamo dopo come li abbiamo calcolati. I costi di edificazione da cosa sono dati? Sono dati chiaramente dal costo 1.200 euro al metro quadro, i parcheggi costano 2.500 euro l'uno, nel caso sia degli uffici che del condominio, solo che sono 20 nel caso del condominio, i parcheggi sono 24 nel caso degli uffici. E poi i parametri sapete bene quali sono quelli dei costi, quindi contributo di costruzione, ordine di finanziare, sempre presi dalla traccia. Questo lo calcoliamo dalla tabella Excel che vi faccio vedere tra poco. Il VAN, allora il VAN in effetti è un valore attuale netto, cioè significa differenza tra ricavi e costi, tutti riferiti all'attualità, al momento zero. Quindi dobbiamo tenere conto che se i ricavi e i costi avvengono in tempi diversi, dobbiamo poi portarli con le formule di matematica finanziaria al momento zero. Nel file Excel sono già, diciamo, è già calcolato, nel senso che già le celle portano tutto all'attualità. Basta definire qual è la percentuale del saggio di attualizzazione. E questi valori li riprendiamo sempre dalla tabella Excel. A idem, percentuale su ricavi, e idem, il rapporto VAN-SUL. Lasciamo stare le conclusioni per il momento, adesso vediamo il file Excel. Eccolo qua. Allora, il file è già, diciamo, con le celle predefinite. Abbiamo le due ipotesi, uno edificio condominiale, due uffici. I dati, vedete, superficie utile loro, sono presi i tempi dalla traccia, ipotesi 1, ipotesi 2, superficie commerciale, prezzo unitario. Abbiamo, vedete, i ricavi. Costi, si demoliscono 2000 metri cubi, 25 euro al metro cubo. In automatico ricalcola i costi. Costi di edificazione, 1200, 1100, si realizza 1600 e 1650, quindi abbiamo in automatico i calcoli, il contributo 20%, questi sono i parcheggi, le attrezzature, e quindi abbiamo il totale del costo di costruzione. Dobbiamo calcolare gli oneri finanziari e il profitto di imbrisa al 20%. Vedete, in automatico vi porta, vi distribuisce i valori anche in base all'arco temporale, quindi il primo anno, il secondo anno, il 20%, 40%, 40%. Quindi una volta calcolato, vi distribuisce in automatico all'applicativo Excel i valori nel tempo. Idem fa per le altre voci. 25, 50, 25, vedete. Alla fine abbiamo il totale dei costi. A questo punto, i ricavi e i costi, dobbiamo vedere come si distribuiscono nel tempo e quindi vedete, anno per anno, vi fa la somma nella colonna. Per portarli a momento 0, dobbiamo applicare la forma di matematica finanziaria. Eccola qua. Quindi si sogna per 1 fratto 1 più R elevato, ovviamente all'anno che dobbiamo portarli indietro. Il primo anno è solo 1, il secondo anno sarà 1 più R elevato alla seconda e il terzo anno sarà 1 più R elevato alla terza. Il saggio lo stabiliamo nella formula, vedete. Vedete la formula uguale 1 fratto 1 più 0,02 perché il 2% significa 0,02. Se fosse stato un 1% era 1 più 0,01. in automatico ci porta i valori riferiti diciamo tutto al momento 0. Sommandoli abbiamo i ricavi all'anno 0 dell'ipotesi 1 e i ricavi all'anno 0 dell'ipotesi 2. Idem per i costi, questo ve lo fa in automatico la tabella e vi calcolo in automatico anche il VAN, vedete, vi fa la differenza di ricavi meno costi al momento 0. vi fa in automatico anche il rapporto alla percentuale del VAN sui ricavi e vi fa anche il rapporto VAN su superficie utile lorda e quindi tutti i parametri che voi avete calcolato qua vi riportate poi nella relazione. Conclusioni, qual è l'ipotesi più conveniente? Nel caso nostro l'ipotesi è la numero 1 ovvero dell'edificio condominiale in quanto il VAN è più alto vedete è più alto il VAN la percentuale è più è maggiore il VAN è più la percentuale del VAN è più elevata sui ricavi e il rapporto VAN superficie utile lorda maggiore e quindi abbiamo concluso l'esercizio. Buon lavoro ragazzi! Grazie!